è pomeriggio e voi mi direte perché ve lo dico che ce ne frega e infatti ma questa sarà una premiere non una diretta per quello ve lo dico è pomeriggio e io sempre vi dico le cose che ho fatto le cose che faccio come firmarli adesso no invece voi faccio vedere quello che non ho fatto quella per voi gente come dice qualcuno non ho lavato la cucina dopo pranzo capito non finito di mangiare a mezzogiorno e mezzo adesso me la ritrovo dopo la siesta poi me sto con il bollitore a riscaldare l'acqua per un tè ecco qua la tegliera la tegliera quindi oggi oggi mi sono riposato un po che poi come mi stanno a cresce i capelli tutti arricciati tutti arruffati sono troppo larghi io che riportavo di qualche centimetro di qualche millimetro adesso guarda meglio da più di due mesi tre che non li taglio quattro forse quattro mesi avevo corti corti più di un dito tutti ondulati non so perché io ripetino ripetiva si ondulano allora grazie a tutte e tutti voi che state guardando i miei video oggi mi sento un po elettrico che sarà che sarà mai l'elettricità statica e me sento pure esplosivo boh forse farò un altro video oggi volevo fargli i video dopo ho mangiato e invece poi alla fine ho guardato la tv perché io di solito lego come vi dico sempre che bisogna leggere un libro la settimana invece oggi ho guardato la tv vabbè dopo farò un altro video ciao questo era per tenermi in contatto con voi